Sì, pronto dottore? Salve, sì. No, praticamente ho avuto un pallore ieri, proprio bianco ero, tachicardia, sì, parecchia, e poi come attacchi di panico. No, no, non ho mangiato nulla di particolare, ho solo cambiato il cellulare e avevo paura di perdere tutti i messaggi su Whatsapp. Cos'è? Cosa sono? Boomer! Ah, la diagnosi è Boomer, ecco. È grave? È un pochino, eh? Grazie, grazie.